Questo è il braccio di mia nonna dopo otto ore di pronto soccorso in cui la sensazione ricorrente è stata quella di totale abbandono e menefreghismo. Ho vissuto un pronto soccorso all'ospedale di Arezzo al collasso, senza posti letto e incapace di gestire situazioni di emergenza, soprattutto senza un briciolo di umanità. Accuse pesanti nel post di un cittadino aretino, Flavio Sisi, che mette l'accento su un lunedì davvero nero al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo il 9 di gennaio. Oltre 200 gli accessi, ore di attesa, la rabbia dei cittadini scoppia appunto sui social network dove la lamentela più ricorrente è quella della lunga attesa senza sapere nulla del proprio congiunto. Accuse che sulle spalle degli operatori pesano come un macigno, soprattutto per tutti coloro che tutti i giorni si impegnano per garantire un servizio nonostante tutto. Gli operatori sono sicuramente sovraccaricati di lavoro e sono persone a cui va il ringraziamento mio in prima distanza e poi di tutta credo la popolazione perché lavorano immediatamente con ritmi importanti. I medici del pronto soccorso hanno un festivo libero ogni tre, a differenza di altri magari hanno un festivo lavorativo ogni tre. Quasi tutti i festivi siamo a lavorare. Noi siamo al lavoro, il 50% della forza lavoro è costantemente impegnata al lavoro o di mattina o di pomeriggio o di notte, per cui è difficile trovare una giornata libera e lo stesso vale per gli infermieri. Però ecco, come il numero di persone addette al lavoro, addette al pronto soccorso, se ci si confronta con altri pronto soccorsi non siamo molto lontani, non siamo distanti, non è che ci sia una carenza specifica di personale. Il personale del pronto soccorso viene tarato sulla media dell'attività, non possiamo tararlo sul picco, se no staremmo senza fare niente due terzi. Quindi è chiaro il momento in cui c'è il picco di flusso, il picco di influenza, il picco di patologia, è un po' di disagio, lo sentiamo tutti. Soltanto due i medici che erano in servizio per la gestione dei tanti codici giallo e rosso, i più gravi. Altri due nell'ambulatorio invece dei codici verde, otto gli infermieri. Numeri che dalle venti in poi praticamente si dimezzano per non dire di più. La ASL risponde in sole 24 ore implementando il servizio ma non ammette fino in fondo che ci sia stata criticità. Da giovedì partono, questa semmai può essere la notizia, un potenziamento dei posti letto in medicina con sei infermieri in più per garantire l'assistenza. Saranno aggiunti otto posti letto. Non c'è stato un picco straordinario, lo dicono i numeri, 212 erano gli accessi. E' la nostra media giornaliera di tutti i lunedì dell'anno. Un sorriso quando arriva un paziente. Un minuto, non più di un minuto, ma un minuto in più per spiegargli le cose serve tantissimo. Se gli operatori sono pochi e sono stressati, il sorriso viene più difficile. Gli operatori dovrebbero essere sempre di più, noi vogliamo che siano sempre sufficienti. Però guardate, è proprio un modo, un approccio, un criterio. C'è o non c'è un problema di numeri negli ospedali aretini e nei pronto soccorso? Perché poi si può fare il sorriso, ma se comunque il cittadino aspetta 10 ore in pronto soccorso vuol dire che manca il personale. Non è successo, non succede, non succederà. Non ci sono criticità di numeri in assoluto e abbiamo garantito e stragarantito il turnover di tutti. C'è stato qualche momento in cui abbiamo avuto problemi di anestesisti. Questo veramente è successo davvero, perché non trovavamo gli anestesisti ora. Da due settimane finalmente riabbiamo la graduatoria regionale e ne stiamo prendendo più possibile. In ogni vallata mancano veramente gli anestesisti, anche un po' i radiologi, ma soprattutto gli anestesisti.